Vuoi sapere se uno youtuber ha comprato delle visualizzazioni o degli iscritti? Oggi voglio condividere ciò che ho imparato analizzando centinaia di canali YouTube e come sono diventato capace di individuare a colpo d'occhio i creator che utilizzano queste pratiche ingannevoli. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e sono un Temporary Marketing Manager. Oggi voglio raccontarvi un'esperienza che ho vissuto lavorando con diversi content creator in un progetto di influencer marketing per uno dei miei clienti. Immaginatevi la scena, mi sono ritrovato a dover analizzare oltre 300 canali YouTube proposti da agenzie e promoter. È stato un compito impegnativo ma alla fine sono riuscito a scoprire alcuni segreti su come identificare i creator che utilizzano trucchetti per aumentare artificialmente il numero di iscritti, visualizzazioni, like e commenti. Ora, se state guardando questo episodio è perché l'argomento vi interessa per un motivo specifico. Forse state pensando di acquistare iscritti fake, visualizzazioni, commenti e like di quel tipo e vi chiedete se le persone se ne accorgeranno mai. Sì, se ne accorgeranno. Non fatelo mai, non pensateci nemmeno, fate altro ma non fate quello perché vi potreste rendere facilmente molto molto ridicoli. Oppure magari state cercando consigli utili per selezionare i creator con cui lavorare. Beh, sia che siate curiosi riguardo all'uso di queste pratiche fake o alla ricerca di suggerimenti preziosi per la vostra scelta, beh, siete nel posto giusto. Tuttavia, per onestà, vorrei precisare che non è possibile scoprire con certezza matematica se un canale ha utilizzato pratiche non conformi alle linee guida di YouTube. Probabilmente YouTube ha più informazioni dettagliate di noi ma non le condivide facilmente. Quindi dobbiamo arrangiarci utilizzando ciò che la piattaforma mette a disposizione e nulla di più. Perciò non si tratta di avere certezze assolute ma di analizzare attentamente alcuni elementi che ci possono aiutare a individuare possibili pratiche non conformi. Facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire come vengono generate queste visualizzazioni false, i like fasulli e i commenti finti. Questo ci servirà per comprendere come riconoscere chi utilizza queste pratiche ingannevoli. Bene, le metriche su YouTube possono essere alterate utilizzando robot e automatismi che svolgono rapidamente il lavoro. Ci sono alcuni bot piuttosto brutali che eseguono le operazioni senza molte precauzioni, ma ci sono anche altri bot che ho avuto modo di testare che richiedono una profonda conoscenza dei sistemi informatici che si installano su macchine virtuali in serie e sono in grado di svolgere operazioni davvero molto complesse. Ad esempio esistono bot che possono effettuare la login con decine di account diversi di Google, tutte in sequenza, possono cercare contenuti specifici nel motore di ricerca di YouTube fino a quando non trovano il vostro video, guardare un certo numero di minuti del vostro video, lasciare like, commenti e persino interagire con ChatGPT e altro ancora per creare commenti più naturali. Ovviamente questi bot hanno un costo considerevole, specialmente un costo di gestione molto alto, e sono difficili da riconoscere persino per YouTube, poiché sono in grado di simulare in modo davvero accurato l'uso reale che ha della piattaforma una persona in carne ed ossa. Tuttavia non sempre queste attività vengono svolte da robot così sofisticati. Spesso si ricorre all'impiego di persone provenienti dai paesi più poveri del terzo mondo, che lavorano per pochi dollari all'ora in maniera massiva, utilizzando decine e decine e decine di computer oppure di telefoni cellulari disposti uno accanto all'altro. Su internet si possono trovare diverse foto che mostrano queste farm e i loro operatori che in spazi molto angusti, molto ridotti, riescono a gestire contemporaneamente 50-60 telefonine alla volta. Ma alla fine è anche importante capire cosa spinge una persona a percorrere queste scorciatoie. Beh, ci sono molti, molti motivi che spingono i content creator a utilizzare tale pratiche. La fretta di voler ottenere dei risultati velocemente, avere una riprova sociale che li ripaghi del loro impegno e li possa far notare dai loro amici, dai loro pari, la voglia di vendere collaborazioni a un prezzo molto più alto di quello che in realtà dovrebbero fare, e persino il senso di inadeguatezza che magari ogni persona di nascosto si porta dentro di sé. Se acquistiamo servizi da canali simili, ovviamente noi non otterremmo nulla di significativo. Le visualizzazioni, i like, gli iscritti, i commenti non sono reali, e anche se fossero reali, come se lo facesse, non so, un pakistano nella sua stanza con 50 telefoni, non sono visualizzazioni spontanee. Quindi in altre parole, non ci sono persone sinceramente interessate a quel video che avete pubblicato. Di fatto il creator ci sta truffando, vendendoci l'illusione di esporre la nostra proposta a migliaia di persone che in realtà o non esistono o non sono assolutamente interessate. Come fare quindi a riconoscere i canali che gonfiano le metriche? Come possiamo capire se un determinato canale ha acquistato iscritti, visualizzazioni, like, per pompare magari il video che gli abbiamo commissionato o i video che sono sul canale? Beh, abbiamo bisogno di conoscere due strumenti fondamentali, YouTube e SocialBlade.com, che ha uno strumento gratuito che ci fornisce alcune indicazioni utili. Iniziamo osservando i dati che YouTube ci offre gratuitamente guardando semplicemente il canale nel nostro schermo. Ogni mercato ha le sue statistiche e si possono notare delle proporzioni. Ad esempio, ad un certo numero di iscritti corrispondono un certo numero di visualizzazioni più o meno a video. Certo, magari qualche video va un po' meglio, qualche video va un po' peggio, ma tendenzialmente c'è sempre una sorta di pattern, una ripetitività, e ad un certo punto il numero di visualizzazioni coincide o corrisponde con un certo numero di like in proporzione e di commenti. Prendendo come riferimento un canale genuino che magari conoscete e che opera nel vostro mercato, potete fare i vostri conti. Se un canale ha un milione e mezzo di iscritti e l'ultimo video pubblicato da un mese fa ha mille visualizzazioni, beh, dovremmo fare attenzione e cercare di capire perché. Se vediamo un video con 10.000 visualizzazioni e solo 3 like, beh, potrebbe esserci qualcosa di strano. Se ci battiamo in un video con 50.000 visualizzazioni ma nessun commento, dovremmo chiederci il motivo, perché di solito con così tante visualizzazioni qualche d'uno che scrive qualcosa c'è sempre. Certo, potrebbero esserci anche dei motivi legittimi che hanno portato a una situazione così particolare. Ad esempio, un determinato video potrebbe essere stato menzionato da un content creator famosissimo, oppure un canale potrebbe essere stato presentato in un programma televisivo di grande popolarità. Ora, normalmente, se è successo qualcosa di straordinario, qualche traccia online con una semplice ricerca dovremmo trovarla. In caso contrario, è probabile, non è certo ma è molto probabile, che quel canale abbia acquistato un po' di follower. Una volta analizzato il canale da YouTube, andiamo su SocialBlade.com e controlliamo come SocialBlade valuta questo canale. Anche se non rappresenta ovviamente una verità assoluta rivelata da Dio, quindi non prendiamo tutto con un po' di inventario, possiamo trovare alcuni dati interessanti all'interno di questo strumento gratuito. Iniziamo dall'inizio, verifichiamo da quanto tempo è attivo il canale. È attivo da 5 anni, è attivo da 10 anni, bene, ma quando gli ha caricati i video e come ha sviluppato le visualizzazioni, spesso scopriremo che per anni non ha pubblicato nulla e poi improvvisamente in un giorno il canale registra, boom, un picco incredibile di visualizzazioni. Ecco, questo, quando le salite sono totalmente verticali, dovrebbe farci sospettare. Almeno dovremmo andare a vedere più a fondo e capire perché. Ma continuiamo con la nostra analisi. Sempre utilizzando SocialBlade dobbiamo controllare l'andamento degli iscritti. Spesso si notano su SocialBlade dei picchi negativi, con perdite di meno 1000, meno 500, meno 5000, a volte anche meno 20-30 mila iscritti in un solo giorno. Ora, dobbiamo sapere che di tanto in tanto YouTube fa pulizie di primavera ed elimina gli account inattivi o falsi che riesce a individuare. Queste, chiamiamole purghe di massa, causano spesso cali repentini del numero di iscritti per i canali che hanno acquistato follower truffaldini in passato. Una situazione simile si verifica anche con le visualizzazioni. Non è normale che un canale registri cali repentini di visualizzazioni da un giorno all'altro. Cioè che un canale ottenga persino visualizzazioni negative, meno 1000 visualizzazioni, meno 100, meno 10.000, meno 100.000 e così via. Sono segnali che sta perdendo delle view in maniera repentina. Tuttavia, va tenuto presente che questo può accadere anche quando un canale rende privati i suoi video. Mettere i video in privato può capitare. Vi faccio un esempio personale. Sul mio canale potreste notare, andandolo a guardare su Social Blade, una perdita di oltre 36.000 visualizzazioni in un solo giorno. Si tratta di un singolo video che aveva avuto buon successo, ma che nel tempo era diventato obsoleto. Cioè conteneva informazioni valide quando ho pubblicato il video, quindi in passato, ma non più attuali. Anzi, attualmente erano fuorvianti perché erano sbagliate. Il tempo era passato, delle cose erano capitate, per cui quel video poteva confondere gli utenti. E mezzi fa ho deciso di rimuoverlo per non creare loro problemi. È evidente che quindi questo può capitare a tutti, ma se accade molto spesso, è un brutto segnale che dovrebbe mettere in allerta i nostri sensi di ragno, come direbbe Peter Parker. Un altro parametro a cui dare un occhio sono i like. Non è un parametro molto importante, perché spesso si sbagliano sui like o vengono presi in castagna sui like proprio i principianti che acquistano visualizzazioni così. Perché dimenticano di acquistare un numero congruo di like, magari acquistano tantissime view, ma non acquistano abbastanza like. Ecco, ogni argomento ha una proporzione tra le visualizzazioni e i like. Se vediamo 50.000 visualizzazioni su un video e solo 10 like, c'è sicuramente qualcosa di strano. Ma ripeto, i truffatori esperti lo sanno e comprano la giusta proporzione di like per le view che hanno già acquistato dall'altra parte. Un dato invece che offre un'ottima attendibilità è quello dei commenti. Non sto parlando tanto del numero dei commenti, ma della qualità dei commenti stessi. Ora, leggeteli e con un po' di esperienza riuscirete a capire se sono naturali, reali, organici o se sono stati acquistati. Ho visto commenti completamente fuori luogo, con frasi prive di senso, completamente pieni di emoji ma senza significato. Ecco, questo non è molto comune nei commenti spontanei. Possiamo dire che i commenti rappresentano forse il migliore indicatore per scoprire se un account sta gonfiando i suoi numeri o meno. Quello che però tutti dovrebbero tenere a mente è che esiste un vero mercato di canali fasulli, creati appositamente per vendere video su commissione, a volte a 3.000 euro, a volte a 1.000 euro, a volte a 100 euro. Mi è capitato di vederne anche qualcuno che chiede 10 dollari. Ora, nel mondo delle criptovalute, ad esempio, ci sono tantissimi canali completamente finti, creati solo per vendere video. Vi faccio immaginare la qualità delle informazioni all'interno. Ecco, questi canali hanno una rete di promoter e di agenzie che rivendono questi branded video, cioè video dedicati che sembrano recensioni veri a prodotti, a servizi, a token, a quello che volete, ma in realtà sono comprati, sono video pagati da qualche d'uno. Ecco, nulla di male, ma questi promoter, senza alcuno scrupolo, cercano di vendere alle aziende questi video. Video finti, ovviamente, che non faranno mai una view. I prezzi variano, ma se richiedete informazioni riguardo alle statistiche visibili su Social Blade, cominciate a dirgli che vedete delle incongruenze, eccetera, beh, questi promoter inizieranno ad arrempicarsi sugli specchi e a volte incominceranno a fornire spiegazioni o persino degli screenshot dello YouTube studio del canale. A quel punto è fatta. I dati presenti sono molto interessanti da analizzare. Mi è capitato un paio di volte che un promoter mi offrisse addirittura l'accesso al suo studio. Beh, se vi capita, la prima cosa che bisogna guardare è la monetizzazione. Se la monetizzazione è disabilitata, cioè nel mese guadagna zero dollari dalla pubblicità, è perché YouTube ha valutato il canale come fraudolento o di scarsissimo valore, quindi con view finte, con contenuti farmati, creati automaticamente solo per generare traffico, per poi guadagnare dalla pubblicità, ecco, e ha rimosso il gestore dalla possibilità di guadagnare. Un altro parametro molto importante da controllare è la provenienza del traffico, intendo cioè le nazioni da cui provengono le visualizzazioni di quei video su quel canale. Se un canale è in lingua indiana o, come mi è capitato, di lingua turca, e il 98% delle visualizzazioni proviene dalla Russia, bisogna diventare sospettosissimi. Bene, ora riassumiamo cosa ci siamo detti fino adesso. Di fatto servono pochissime cose, serve attenzione e servono due strumenti, YouTube e Social Blade. Poi vi ho dato un po' di spunti per capire autonomamente se uno YouTuber con cui avete a che fare vi sta mentendo o meno riguardo alle visualizzazioni, agli iscritti e i like, e anche ai commenti. Come ho detto all'inizio, non è possibile però avere la certezza matematica che il content creator sia un imbroglione, ma se si fa attenzione, se si guardano le cose che vi ho detto, con un briciolo di esperienza si possono notare a prima vista delle anomalie che vi faranno risparmiare tanto tempo e tanto denaro. Direi che per oggi è tutto, se vi va iscrivetevi al canale, se avete delle domande scrivetele nei commenti, io risponderò a tutte e se vi va la discussione continua anche sul canale Telegram, telegram.me barra Meritabiz. È davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!